Ciao a tutti, fallo se è uno stile di attaccamento evitante. In questo video voglio spiegarti come comportarti con qualcuno che nei tuoi confronti ha uno stile di attaccamento evitante. Che cos'è lo stile di attaccamento evitante? È uno stile di attaccamento in cui la persona, diciamo, non nega i propri sentimenti, nega il fatto di essere coinvolto. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo al tema, al tema dello stile di attaccamento evitante. Se hai a che fare con una persona che ha uno stile di attaccamento evitante, si comporterà nei tuoi confronti omettendo, diciamo, di avere dei sentimenti nei tuoi confronti. Però poi vedi che in realtà una sorta di attaccamento nascosto è previsto, cioè è una persona che se tu ti avvicini scappa e se tu scappi tende ad avvicinarsi. Questo da cosa nasce? Nasce dallo stile di attaccamento che John Bowlby ha studiato, diciamo, tanto tempo fa da bambini, l'attaccamento che vivono i bambini. Ovviamente per un bambino che nasce prematuro un attaccamento al genitore è normale e anzi è molto importante. Ci può essere un attaccamento sicuro in cui il bambino è consapevole e si ribella se non gli viene dato. Un attaccamento insicuro, uno stile di attaccamento evitante. L'evitante è il bambino che non disturba il comportamento perché ha ricevuto dai genitori dei messaggi del tipo ti amo solo se non mi rompi le scatole, ti amo solo se non piangi, se piangi mi arrabbio, gli ometti non piangono, le donnine non piangono. Ecco, quindi tutto questo stile di messaggio gli nega. Diciamo, il bambino ha comunque una dipendenza ma nega, anzi la dipendenza si fortifica. Per cui le persone che hanno uno stile di attaccamento evitante hanno anche comunque di fatto, sviluppano di fatto una forte dipendenza. Non è vero che non sviluppano dipendenza, sviluppane come dipendenza. Ed è una dipendenza anche talvolta molto molto forte. Per cui è importante, diciamo, imparare a gestire, è importantissimo imparare a gestire l'attaccamento per evitare che, diciamo, se hai a che fare con una persona che ha un attaccamento evitante, possa, diciamo, in qualche modo nei tuoi confronti generarti della sofferenza. Perché poi chi ha un attaccamento evitante genera sofferenza. E questo bisogna tenerlo presente. Genera sofferenza perché se tu sei coinvolto, lui si decoinvolge ancora di più. Quindi è davvero importante capire. E come fai a capire se l'attaccamento è evitante o se è semplicemente indifferenza? Beh, lo capisci dal fatto che quando lui, quando tu ti allontani, questa persona in qualche modo tende a ravvicinarsi, tende a inseguirti. Per cui questo significa che in realtà un attaccamento è presente. In realtà un attaccamento ce l'ha e quindi tu puoi iniziare a, diciamo, interagire con questa persona per comunque cercare in qualche modo di utilizzare di fatto questo suo attaccamento. Utilizzarlo in qualche modo per poter ottenere il risultato di coinvolgerlo e farlo passare a una forma di attaccamento più sicuro. Si tratta di ricreare di fatto attraverso l'interazione, attraverso l'interagire con questa persona, si tratta di ricreare quello che probabilmente nell'infanzia non è stato vissuto o è stato vissuto solo parzialmente. Ma com'è possibile fare questo? Beh, è andando in prima istanza a ricalcare l'imprinting. Quindi se hai a che fare con una persona di questo genere, devi essere un genitore direttivo, devi essere un genitore normativo, perché tutti quelli che hanno un attaccamento evitante si agganciano al genitore normativo. Quello che tende a dire, ah, hai fatto questo, allora ti cazzo in questo modo, hai fatto quest'altro, allora ti cazzo in quest'altro modo. Ecco, quindi questo è, diciamo, quello che deve essere fatto, che deve essere sviluppato. Deve iniziare ad avere dei comportamenti nei confronti di questa persona altamente penalizzanti, diciamo così, per agganciarlo. Vedrai che è un comportamento penalizzante, soprattutto anche ricattatorio. Se fai questo me ne vado, non ne voglio più sapere di te. Questo è un qualcosa che temono, perché dentro hanno fortemente la dipendenza. E' ovvio che in questo modo lo agganci, però poi ti ritrovi sempre una persona che ha questa forma di attaccamento. Quindi a quel punto lì devi iniziare a somministrare altre emozioni per vivere meglio la relazione. Somministrare quali emozioni? Beh, emozioni legati al desiderio, stimolare di più il desiderio e nutrirlo di desiderio. Non tanto di possesso, quanto nutrirlo di desiderio. Ma diventare gradualmente meno cazziante, se sei donna, diciamo così. Diventare più accogliente, in modo tale che dentro la sua mente possa ricrearsi, diciamo, quell'ideale di figura materno, di figura genitoriale che gli è mancata e che di fatto però è diventato sempre il suo genitore, diciamo, il genitore ideale, il genitore che comunque andava a ricercare, il genitore che comunque ricopriva un ruolo importante nella sua vita. Ecco, agendo in questo modo riuscirai ad ottenere che piano piano la figura genitoriale, diciamo, venga un po' sostituita. Non è che tu devi presentarti come una figura genitoriale, però creerai, diciamo, un coinvolgimento molto più forte, sempre, tra virgolette, di dipendenza perché quello è l'imprinting, però molto più, come dire, maturo, se vogliamo. Perché, come dire, ogni imprinting può maturare, può andare in una direzione di crescita o può tornare, regredire in una direzione di decrescita. Quindi è molto importante saper gestire la crescita e non la decrescita. Questo è un fatto importantissimo. Ecco, agendo in questo modo otterrai dei risultati molto, molto soddisfacenti da questo punto di vista. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscritti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo, inoltre, che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!